Il Presidente Edoardo Facchetti Grazie Piero, buongiorno E Flavio Ubbiali Flavio, io inizierei proprio da te che ci hai accompagnato lungo queste 24 puntate Tracciando un bilancio Ci sono stati dei riscontri per quanto riguarda il mondo della palla tamburello Per questa iniziativa e questo nostro tentativo di promuovere questo bellissimo sport Assolutamente sì Piero Come hai detto tu, a volte anche i grandi amori finiscono Speriamo che il nostro invece sia un arrivederci Perché è stato il connubio tra Sport Italia e la Federazione È stato un connubio vincente visto i risultati ottenuti Non solo televisivi ma anche a livello sportivo Perché è stato un anno fortunato E non solo fortunato, ma anche di bravura Perché le nazionali quest'anno contro i cugini d'Altralpe Hanno vinto tutto, contro i francesi Quindi ricordiamo la recente vittoria del Mondiale Sia femminile che maschile nella disciplina indoor E qui voglio fare ancora un plauso alle giocatrici, agli atleti Sia maschile che femminile Ai tecnici per l'emozione che hanno dato A me soprattutto, ma anche a tutto il pubblico Che c'era nel palazzetto a Rovereto la domenica scorsa Visto quindi che siamo giunti all'ultima puntata Mi sembra giusto anche doveroso fare dei ringraziamenti Il primo ringraziamento vorrei farlo soprattutto Alla federazione, al presidente E a tutto il consiglio federale Che con me ha creduto in questa iniziativa E pensando appunto che Dando dimostrazione in televisione Il nostro sport può essere solamente di grosso auspicio Quindi ringrazio, ripeto, ringrazio tutto il consiglio federale Ringrazio gli sponsor che ci hanno permesso Alcune società che hanno condiviso con noi questa esperienza A livello di sponsorizzazione E come dimenticare i miei due amici di avventura Il giornalista Paolo Gometto della federazione Che è quello che mi ha seguito in tutte le puntate E Mauro per le riprese televisive Presidente Facchetti, volevi aggiungere qualcos'altro? No, poi in un momento gli auguri le faremo poi successivamente C'è tempo, presidente Facchetti E' giusto Poi noi tra l'altro abbiamo cominciato a intravedere Anche alcune immagini delle varie specialità Della palla tamburello E' giusto assegnare la copertina Ai mondiali indoor Che hanno visto tra l'altro di recente E' rovereto il trionfo delle nostre due nazionali O c'è qualche altro ricordo particolare Che lei vuole mettere in primo piano In questo anno di palla tamburello? Ma diciamo è giusto perché è l'ultimo Ma sicuramente non trascuro Quello che è stato tutto l'anno legato all'open Sia per quanto riguarda i campionati maggiori Sia per quanto riguarda soprattutto Le finali giovanili ad esempio Che hanno caratterizzato in buona sostanza Un certo periodo dell'anno Quindi è chiaro che la nostra attività Diciamo si spalma su tutto l'anno sportivo E' un po' il bello del nostro sport Che non esiste O non esistono tempi morti Per cui è chiaro che da questo punto di vista La federazione deve essere sempre attenta A programmare e soprattutto diciamo A dar credito a quello che effettivamente Poi rappresenta nel mondo sportivo Lei ha messo in evidenza Alcune caratteristiche importantissime Che abbiamo trattato durante questa lunga stagione I giovani Poi anche io aggiungerei Una grande competitività nel campionato Il campionato maschile open è finito Con una sorta di spareggio all'ultima giornata Con il Pasino Castellano Che ha avuto la meglio sul Cavaillon per un i marmi Poi anche il settore femminile No Presidente? Certo Direi che il settore femminile È un ambito sul quale Fin da subito abbiamo cercato di porre l'attenzione Per migliorarlo E per cercare comunque di renderlo Di pari grado rispetto al maschile E devo dire che onestamente ci sono stati risultati Molto più che incoraggianti per quanto riguarda Sia gli aspetti tecnici Sia per quanto riguarda il numero delle ragazze Per cui questo credo che sia un po' la via maestra Sulla quale poi intraprendere altri percorsi Un movimento molto vivace Quello della palla Tamburello Che è vivace anche nel momento in cui si ferma Perché? Perché noi siamo la tv del calciomercato Ed esiste del mercato Che tra l'altro è in pieno fermento Anche nel vostro sport Diamo uno sguardo in grafica A quelli che saranno i movimenti I nomi che possono non dire molto Però quando si legge del passaggio Da Cavaiono a Solferino A Somma Campagna Da Ceresara a Cavaiono E i vari nomi che vediamo qui Riassunti nella grafica curata Dalla nostra Silvia Toia Bisogna ricordarsi anche che qui Non abbiamo a che fare con dei professionisti Ma gente che fa dei sacrifici Per provare anche a imbastire una carriera Che possa raccontare più pagine Parallelamente poi a quello che questi ragazzi Fanno nella vita C'è chi studia, c'è chi lavora E varie altre attività Che prescindono dallo sport Flario facendo un salto all'indietro Al caldo dei mesi estivi Che ti hanno visto grande protagonista Anche in compagnia di Bobbo Vieri E altri bomber che hai avvistato Sulle spiagge d'Italia Facciamo, ricordiamo anche Un po' quello che è successo nel Tambic Questa specialità molto molto interessante È interessante perché ci dà visibilità Sulle spiagge d'Italia È un percorso che abbiamo iniziato Lo scorso anno C'è sempre stato Però l'anno scorso abbiamo dato Uno scorsone importante Che sicuramente quest'anno Sarà ripetuto Quindi già ci stiamo organizzando Per trovare una location adatta Per ospitare le finali del nazionale E questo quindi è il lavoro Che stiamo organizzando Per il Tambic Abbiamo gli ultimi tre minuti a disposizione Adesso vengo da entrambi Perché veramente dobbiamo Mettere un punto Su questa bellissima esperienza E io mi vorrei soffermare Perché abbiamo anche visto Delle immagini sul pubblico Il pubblico che ha accompagnato Tutte le specialità Di cui abbiamo discusso Nel corso di queste 24 settimane Cosa bisogna fare? Presidente parto da lei Per avvicinare ancora di più Il pubblico A questa bella Bellissima disciplina E per non disperdere Quanto di buono Fatto quest'anno Beh direi innanzitutto Che bisogna creare Degli eventi ad hoc Che sappiano Tirare l'attenzione Ovviamente Questa attenzione Che noi puniamo Nel cercare appunto Di migliorare Quegli particolari Che possono fare la differenza Si riflettono anche poi Nei risultati Perché abbiamo visto ad esempio Specialmente nella giornata Di domenica delle finali La palestra piena A Rovereto Piuttosto che durante Le fasi finali Di Coppa Italia Durante le fasi Dei campionati giovanili Accorrere sempre più persone È chiaro che Dobbiamo cercare Di rendere il pacchetto Diciamo così Molto Visibile È fruibile In modo tale Che più persone Si possano avvicinare Volevo aggiungere Un ultimo particolare Che non è di secondaria importanza Questo progetto Racchette in classe Che vedrà Diciamo così Che è ai nastri Di partenza E che Da gennaio Ci vedrà impegnati Con la federazione Tennis E Tennis Tavolo Credo che Ad oggi Si siano iscritte Circa 400 scuole E ritengo Un progetto importante Che oltretutto Vede uno sponsor Di prestigio Che è la Ferrero Che sicuramente Da questo punto di vista Molto sensibile Su questi aspetti Questo può essere Per noi Un anno di svolta Per poter Veramente entrare Ancora di più Nei contesti scolastici Che ci possono poi Permettere di crescere Ulteriormente Fabio vuoi aggiungere qualcosa Sì Prendo occasione Per sperare Che si rinnovi Questa Questa collaborazione Con Sport Italia Perché ripeto Il risultato È stato grandioso Tanta gente Ci riconosce Perché ci ha visto In televisione E quindi Spero veramente Che anche il prossimo anno Il consiglio È sostenuto Dal presidente Facchetti Ci ridia Questa possibilità Di poter essere presenti Con voi Anche per il prossimo anno E visto che Nei ringraziamenti Si tralascia sempre qualcuno Volevo ringraziare te Piero Perché Ci hai fatto sentire Veramente a casa tua Come tutta La redazione Di Sport Italia E quindi L'auspicio Veramente Di rivederci Per il prossimo anno E colgo l'occasione Per fare gli auguri Di buone feste È un sereno Natale A tutti gli sportivi E non A tutte le persone Che ci seguono Auguri a cui ci uniamo Sport Italia è qui Sport Italia Si è appassionata Alla palla tamburello Speriamo Di rincontrarci presto Auguri di buone feste A Flavio Ubbiali Grazie Piero Grazie a tutti voi Davvero E a D'Ordo Facchetti Grazie E che da parte mia Auguri a tutti Buon proseguimento Con la TV dello sport Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti